Bersagli disponibili al lavoro UAB nemico in volo Cassa di scorte marcata, recuperiamola Qui in su, ma guarda dove stai Prossimo obiettivo localizzato Sto subendo il fuoco nemico Occhio dove stai, per dentro Contratto aggiornato, nuovo obiettivo identificato RPG Contratto completato Tutte le casse Scorte trovate Venditore qui, fate scorta Stem troppi attivo Mi hanno colpito, mi hanno colpito Lancio di equipaggiamento alleato in arrivo Qui in su, ma guarda dove spari Movimento Mi hanno colpito, mi hanno colpito Confermo bersaglio ostile Ben detto Stato con le mie Vado all'attacco Ed era che lei è ieri Sono messo male Avete del gas in arrivo Soldato nemico in arrivo Sonico in arrivo 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 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 13 13 14 14 15 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 16 16 18 15 15 15 15 15 15 15 18 18 19 20 ci sono i soldi non so non so non so non so ostile in discesa nell'area occhio in alto gas in avvicinamento è molto alto ah 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 dovremo raggiungere la zona sicura ha è venuto se out? non è venuto non è venuto non è venuto il suo amico è venuto è sicuro contratto fallito tempo scaduto è venuto è venuto non 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 è venuto gas in arrivo spostamento della zona sicura indico la meta prezzi delle stazioni di acquisto ritoccati l'ho un ue l'ho metà al ue un ue in un ue l'ho I'll leave one in 2000 and take a gole What do you want to do? Do you want to take a gole? Take a gole Take a gole vabbè nemico in volo serve a qualcuno ignorate siamo nella giunica sicura siamo nella giunica sicura i fronti a difenderci i fronti alleato in Sorbono avvio scanzione a radar contatto con l'amico i fico che i miei giogoni sono molto affatto i miei giogoni sono molto affatto vado da questa parte gas in arrivo spostamento nella zona sicura contatto con l'amico non fermo bersaglio ostile il radar confermato con gli altri confermo bersaglio ostile attenzione bombardamento di precisione alleato in arrivo a a a a a a a a a E' il drone, e' il drone è il drone Mi stanno massacrando Mi stanno perdendo terreno Mi hanno preso Non è nella zona sicura, si ti ha una mossa E' il drone è il drone E' il drone è il drone Contatto con il nemico E' il drone è il drone 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 Bersaglio dell'attacco è marcato Qui, Stryker 3, ricevuto Attacco in corso Golpi fuori bersaglio Ok 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 Ok